Eccone un altro, proprio un altro figlio di Lil Wayne, questo è proprio spiccicato, Young Tung è proprio, cioè, la versione moderna di Lil Wayne, un po' meno pastoso il flow, mettiamolo così, un po' più liscio, coda liscia, Young Tung. G-Love, Gangsta Love, l'amore di un gangsta, questa Unrealized che ci andiamo a fare oggi, con questo rapper nuovo, non l'ho mai fatto, io sto sperimentando, andiamo a vedere un po' Young Tung, che cosa si dice, il più matto tra l'altro Young Tung, perché mi ricordo che lo scalpore, quando fece questa copertina, vestito come una donna che doveva sposarsi proprio, cioè. Ah, fighissima, fighissima, era lui, era Young Tung, mi pare, pare proprio lui, ah, eccolo lì, affiliato con Cash Money, quindi siamo lì, comunque la prospettiva è quella. Che poi, eh, uno va anche a sdoganare tutto il discorso Achille Lauro, che abbiamo paragonato a Renato Zero, eh, tanti anni prima, ok, ma non c'è neanche bisogno di andare a Renato Zero, di andare a David Bowie, queste cose le hanno fatte in un'altra epoca, in cui proprio non c'è da fare il paragone, cioè, stiamo, stiamo dicendo il nulla col tutto. Ehm, semplicemente c'è da parlare nei tempi recenti, perché ognuno è figlio della sua epoca, e quindi Achille Lauro, con il suo, con il suo comportamento da drag queen, non ha fatto né più né meno di quello che hanno fatto artisti come Young Tung, appunto. Che in questo brano, questo brano abbastanza particolare, dice Hanno trovato il suo corpo morto, hanno trovato un po' di cronica, hanno scoperto che era un ragazzo stoner, non me l'ha tradotto, hanno scoperto che è stata sua madre. Spero di non colpire gli innocenti, non voglio essere audace, scavalo, io sono così serio che sto servendo cocco. Sto sorseggiando cocco. Vabbè, sorseggia cocco. Sono Rocky Balboa, le ho abbassato il naso, e lei è tutta la mia puttana. Ha un mal di freddo, sto per baciarla con la lingua, voglio qualunque cosa lei dia. Io sono uno contro uno con l'omicidio, io sono zero per nessuno con il furto di me. Ragazzi, sto cullando i cili a sdifendi, provando a non essere un meschino assassino. Non ho capito, credo che questa canzone lui dica che ha ammazzato una ragazza, ovviamente uno storytelling, e sorseggia cocco. Lei ha mal di freddo, è congelata, lui bacia questo cadavere con la lingua, mentre dice sono Rocky Balboa, e sorseggia cocco. E questo, questo è bene o male il concept. Vabbè, è un bello storytelling, devo dire, no? È carino, è carino. Non lo critico, non lo critico affatto, Young Tung, perché c'ha stile, e ti fa lo storytelling particolare. Questa canzone spacca, comunque, è bene così. E poi comunque è stato uno dei primi a vestirsi da donna, due dei primi. È stato uno dei tanti a vestirsi da donna, però ci si è messo in copertina, quindi comunque personalità a pacchi. Va bene, questo era G-Love. Va bene così, ragazzi, va bene così. Sono i vostri idoli, io cerco solo di arrivarvi dietro, alle spalle.